Mia figlia è certificata con disturbo del linguaggio. È un DSA questo? No, il disturbo primario del linguaggio, quello che prima chiamavamo disturbo specifico del linguaggio, è un qualcosa, mentre invece il disturbo specifico dell'apprendimento è un'altra cosa. Il primo interessa appunto tutti gli aspetti legati al linguaggio, che può essere una difficoltà nel linguaggio espressivo, nel linguaggio recettivo, in una difficoltà mista tra queste due difficoltà, mentre invece un disturbo specifico dell'apprendimento riguarda appunto l'apprendimento, in cui possiamo avere una dislessia, difficoltà nella lettura, velocità e correttezza, una disortografia, dunque una difficoltà nella transcodifica ortografica, quando scrivo a livello ortografico commetto molti, ma molti, più errori rispetto ai propri compagni pari età. Potremmo avere una disgrafia, ovvero difficoltà grafica della scrittura, quando scrivo non si comprende nulla, oppure una discalculia, difficoltà nel fare conteggio, e tutto l'ambito matematica, insomma. Quindi disturbo primario del linguaggio e disturbo specifico dell'apprendimento sono due cose differenti tra loro, però questo non vuol dire che nello stesso soggetto non possano coesistere, in comorbidità o in comorbidità, sia un disturbo primario del linguaggio che un disturbo specifico dell'apprendimento. Piccola nota? I bambini che da piccoli hanno avuto un esordio tardivo del linguaggio, un disturbo primario del linguaggio o un ritardo del linguaggio, diciamo che hanno molte più probabilità, un indice di rischio maggiore, di poter mostrare poi a scuola un disturbo specifico dell'apprendimento. Spero che sia utile, in caso seguiteci, salvate il video e condividete questo video. Ciao!